Siamo a Levante Circuit, siamo all'interno della location del simulatore, vediamo che la Safe Emotion ha messo a disposizione qui al circuito il simulatore di Formula 1 e l'istruttore sta dando spiegazioni a un allievo che sta per iniziare una lezione sul simulatore. Il simulatore ovviamente noi pensiamo subito ai videogiochi, però questo come vedete è uno che si muove anche meccanicamente perché ha tutta la configurazione di una macchina vera, la Safe Emotion si sta impegnando sulla guida sicura eccetera, il simulatore fa parte, qui stanno spiegando un po' tutti i dettagli. Sicuramente, questo volante è un volante con ritorno di forza, quindi tu percepirai tutto ciò che ti dice la macchina, sentirai quando hai il sottosterzo che ti si ha leggerci il volante, percepirai nel bug e percepirai se hai grip in base alla consistenza del volante e la scocca ha tutto ciò che ti darà, tutte le sensazioni possibili. Cioè non è una Playstation insomma. Cioè non è una Playstation insomma. Sì, è un po' la simulatore. Sì, per esempio, hai anche la funzione di Slack. Se ti succedi a sbattare il suggerimento, allora mi sta, questa è abbastanza molto difficile, però mi chieda attenzione. Ma è parto piano, che si vede un po' con me. Sì, si vede un po' con me. Sì, si vede un po' con me. Abbiamo presente il presidente dell'ACI, Bari, che sta osservando e casualmente, senza farlo apposta, abbiamo all'interno del simulatore un ragazzo che grazie all'ACI e ai donatori sangue è andato a Vallelunga a fare il corso di guida sicura. Quindi questo è un percorso importantissimo, quello di far comprendere ai ragazzi giovani, qui vediamo che è partito. Adesso ci mettiamo come camera car. Il video si muove perché abbiamo fissato la camera. Freno, fino in seconda anche, poi tenendo tutto sull'alto. Ok, super l'alto. Gas, sento in piano. Aspetto, guarda. Freno. Attenzione, tolare l'acuscollo e accendere, perfetto. Adesso vai sulla sinistra. Mantieni più qua a destra, adesso vai tutto sulla sinistra. Adesso a destra, togli un pochino di gas e poi gli pizzini. Come va a dare? Mantieni più qua a destra sul porto della sinistra. Punta quello sulla destra, ci teniamo un po' e poi interi un momento in gas. Perfetto. Freno, che purtroppo non si vede bene la cosa per cui c'è lo scordinamento. Quindi viene tutta la destra qui sulla sinistra. Come si vede, è una attrazione. Accelera. Qui si va sulla strada. Freno, inciso. Vieni su un po' e qua. La destra. Sì, sì. Togli il piede da destra. Togli il piede da destra. Vieni un po' pelato perché siamo fuori. Andiamo giù. Perfetto. Un po' di partire. Vieni qui adesso sulla sinistra. Punta già sulla destra. E adesso questa Pasqua verrà riuscire a accelerare. Vieni qui sulla destra. Puntare a puntare. La sinistra. Freno. Puntare la sinistra. Adesso c'erano un po' e poi. Ottimizzate il gas. Adesso c'è un po' di grotto. Che pista è questa? L'Ugello. L'Ugello? L'Ugello è qui a posto. Sì. Infatti, un giorno in Italia si va a chiamare. No, non c'erano anche la pista a posto. Sì, sì. Ma se ci non ha un'altra cosa. Non bisogna fare mai il piede. Dovresti fare anche le cose di piede a veloce. Ehm. 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 Io ho fatto esempio qui d'agricicurato, qui d'agricicurato, qui d'agricicurato. Ehm. 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 Allora, siamo qui, prevedete? Possiamo dichiararci presidente dell'ACE, ovviamente impegnato sul territorio. Possiamo ricordare il nome, grazie. Francesco Ranieri. noi ci siamo visti in giro per la Puglia per diversi tipi di eventi oggi qui siamo praticamente tutto concentrato sulla sicurezza stradale la sicurezza che passa attraverso i vari corsi quelli di avviamento, quelli poi di pista, di guida sicura e di tutti i generi e qui siamo in un momento con il simulatore direi che parte dalla scuola guida con la scuola guida moderna, con il simulatore con le prime nozioni ma purtroppo come all'università si diventa ingegnero, avvocato oppure la laurea ma magari per un altro studi dove aver esercitato la professione che si vuole intraprendere la stessa cosa per la guida perché la guida purtroppo la pratica è diversa dalla teoria e ne dico che ho fatto sia a due corsi di eva e lungo con persone di altissima professionalità che qui, grazie a Ivar Pezzolla che gestisce l'autore di Ammè Levante ormai dal settembre 2018 e ci ha fatto con altri amici gli stessi con i quali siamo stati a Valerio Puglia un corso di guida per oggi ed è stata un'emozione non meravigliosa ma abbiamo imparato tantissimo dopo aver fatto un corso di guida allora, qui stiamo parlando di gente già esperta in macchina abbiamo, praticamente come ho detto prima un, tra virgolette, potenziale allievo però che ha già iniziato a fare un percorso con l'ACI in poche parole, l'ACI ha sensibilizzato il territorio con i donatori sangue è riuscito a mandare i primi donatori a fare il corso a Valerunga è tornato non solo entusiasta ma anche con delle nozioni importanti che nella vita reale con una semplice foratura è riuscito a controllare una macchina in curva che se qualcuno non gli avesse spiegato come fare oggi è qui e già la domanda è ma ci sono dei corsi di refresh cioè insomma per vedere un po' quindi con i ragazzi oggi dobbiamo iniziare a intraprendere questo percorso e l'ACI penso che sta facendo di tutto la Safe Emotion è impegnatissima da questo punto di vista quindi questa è una piccola lapillola che abbiamo voluto approfittare della sua presenza qua ma a breve la intervisteremo formalmente sull'argomento riprendiamo le nostre riprese con il... la nostra buona è lì ah ma ci potete provare ciao